Ciao ragazzi e ben ritrovati. È un po' di tempo che non mi faccio vedere e oggi ho scelto un argomento molto importante per ritornare. L'argomento appunto è il backup delle foto, ma soprattutto per le foto che sono sul vostro smartphone. Tempo fa ho già fatto un video che parlava di questo argomento, ma ci sono dei cambiamenti. Quindi, sigla! Cosa c'è di più fugace di un'espressione che passa su un viso? Henry Cartier-Bresson Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Gennaro e sono il titolare di questo studio fotografico, Image Studio. Da un po' di tempo ho iniziato a creare questi video per passione, quizi social, soprattutto su YouTube. Quindi ti ricordo di iscriverti al canale e di schiacciare like se ti piace quello che stai vedendo. Come ho accennato prima, il backup delle foto è una questione, un argomento molto molto importante da non sottovalutare. Se hai un telefono Android soprattutto, il backup delle tue foto viene fatto in automatico, previa impostazione, su Google Photo. Fino ad oggi questo backup era illimitato, quindi uno poteva tranquillamente divertirsi a scattare tantissime belle immagini e poi trovarsene backupate sul vostro Google Photo, che è accessibile su tutte le piattaforme, quindi non solo dal vostro telefono. Per utilizzarlo c'era semplicemente bisogno di un account Google, quindi chi aveva un dispositivo Android per forza aveva un account. Però c'è stato un bel cambiamento. Google con gli anni ha praticamente prodotto i suoi telefoni, tra cui appunto i Google Pixel, e ha lasciato queste impostazioni, insomma questa future, chiamiamola un po' come vogliamo, gratuita solo per i possessori dei telefoni del brand di Google. Questo cosa significa? Significa che ad oggi tutte le foto che verranno backupate dal vostro telefono verso Google occuperanno dello spazio. È di 15 giga, quindi non è proprio pochissimo. Semplicemente però immaginate nello scorrere del tempo quanto spazio bisogna avere insomma per salvare tutte le vostre immagini, quindi 15 giga potrebbero iniziare ad essere pochi. Soprattutto se avete sempre tenuto un telefono Android. Questa future è stata inserita appunto come dicevo, per il semplice motivo di Google vuole portare avanti i propri dispositivi. Io penso che sia anche una cosa abbastanza giusta. Però se vogliamo avere ulteriori giga, per farli arrivare fino a 50, quindi passare da 15 a 50, avremmo bisogno di pagare 2 euro al mese. È una cifra molto molto irrisoria. Quindi con 2 euro al mese comunque noi ci riserviamo di avere molto spazio in più per archivare le nostre immagini. Come faccio io? Cioè nel senso che anch'io ovviamente posso dire con un telefono, io posso dire con una Xiaomi, in qualche video scorso insomma ho anche fatto dei video a riguardo per quanto riguarda il suo comparto fotocamera. Come lo gestisco io ad archivio? Soprattutto da quando poi ho saputo questa notizia. Innanzitutto ci sono altri servizi di cloud che permettono l'archivazione delle foto, ma di questo abbiamo già parlato nel video precedente, che magari lascio il link in descrizione. Io preferisco avere anche sempre una copia fisica. Io non confido ecco in questi sistemi online per il semplice motivo che da un giorno all'altro potrebbero cambiare le polis, potrebbero cambiare insomma come ha fatto Google, potrebbe farlo anche Amazon, che anche Amazon offre incluso addirittura nel Prime, nell'elaboramento Prime 36 euro a noi, nel calderone dei servizi che offre Amazon, offre anche il backup delle foto. Io utilizzo anche Amazon Drive quindi fino ad oggi ho sempre utilizzato Google Foto e Amazon Drive, ma inoltre io ho anche il mio piccolo server qui privato nella home studio, quindi sia a casa che in studio dove archivio le mie foto. Quindi utilizzo questi servizi cloud per un'ulteriore copia. Del resto ho, con pochi centinaia di euro, parliamo di 100-130 euro, si riesce ad avere uno spazio, ad acquistare uno spazio che è più grande, tipo 2 terabyte. Quindi potete immaginare che per riempire una rischia di 2 terabyte di un server ci vuole sicuramente un bel po' di tempo. Poi quando si riempiranno possiamo tranquillamente comprarne un altro. Queste qua possiamo pensare di stamparle perché poi purtroppo il vantaggio dello smartphone è che ne abbiamo sempre a portata di mano la possibilità di fare le foto e nessuno più pensa a stamparle. Quindi io consiglio insomma ogni tot, ho aggiunto un certo limite, di stampare qualcosa e bisogna per stamparlo anche perché poi l'emozione che dà una, l'emozione insomma come una sensazione proprio diversa quando vediamo le nostre immagini stampate. Io ho semplicemente questo, volevo rendervi partecipi di questo cambiamento di Google perché non è scontato. Ci sono rimasto un po' male da questa notizia però c'era da aspettarselo perché d'altronde era scontato che Google ammirasse a fare i propri interessi. Quindi vi ho dato questa piccola news spero che vi sia stata di aiuto e ci vediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.